Oggi parliamo di digitale, in particolare di connessioni digitali. Siamo in collegamento con Daniele Catozzella, che è esperto tematico educazione didattica digitale dell'area scuola Save the Children. Buongiorno Catozzella. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Eccoci, allora, voi avete appena presentato un interessante rapporto derivante da uno studio triennale con Save the Children, che ha avuto un ruolo di coordinamento. Il rapporto si chiama appunto, intitolato, connessioni digitali e riguarda le competenze dei ragazzi della seconda e terza media di diverse, di ben 17 regioni d'Italia, ha coinvolto ben 99 istituti, 6.000 studenti, oltre 1.000 docenti. Vogliamo fare un po' una panoramica di questo studio, cosa si è realizzato, a quali conclusioni siete arrivati e se effettivamente nel contesto nel quale avete operato avete riscontrato anche un miglioramento delle competenze digitali. Sì, di nuovo buongiorno. Il progetto connessioni digitali si è realizzato negli ultimi tre anni scolastici, nelle seconde e nelle terze medie, come accennavi, di 99 istituti scolastici, per la promozione delle competenze digitali. Come se le decidono da diversi anni, da quando abbiamo definito il concetto di povertà educativa digitale, cerchiamo di lavorare su questi temi nei contesti didattici per far sì che tutti e tutti gli studenti e le studentesse abbiano la possibilità di un'educazione, di un'istruzione di qualità, che si occupi anche delle competenze digitali, che noi vediamo come opportunità e come competenza per essere cittadini all'interno della propria comunità e quindi non soltanto come competenze tecniche che appartengono alla singola persona, ma che gli permettono di esprimere i propri diritti. Il progetto connessioni digitali ha proposto nei percorsi dedicati all'educazione civica nelle scuole una serie di strutturati interventi, sia di formazione, di accompagnamento dei docenti e siti di attività nelle classi, per la produzione di artefatti digitali, dalle petizioni online alle voci Wikipedia, ad una serie di video che si sono spinti a mandare un messaggio non soltanto all'interno del contesto scolastico, ma anche rispetto a quello che accadeva nel territorio. I risultati che abbiamo registrato oggi, grazie al sostegno di Credit Agricole e dei nostri partner, il Cremit come partner scientifico e la cooperativa EDI, sono per noi molto significativi. Innanzitutto ci raccontano di una scuola all'interno della quale un docente a cui viene fornito un impianto teorico e metodologico di rilievo per realizzare dei percorsi che si occupino del digitale, ma lo sappiano unire alle altre discipline, sicuramente viene maggiormente motivato e riesce effettivamente nella sua azione didattica in maniera efficace a promuovere anche le competenze digitali all'interno della propria classe. Inoltre il progetto ci racconta che attraverso questi artefatti studenti e studentesse sono riusciti ad aprirsi al territorio. La maggior parte delle scuole per la prima volta ha attivato una collaborazione con le istituzioni, le associazioni o anche con singoli esperti del proprio territorio, lo ha raccontato, ha portato avanti quelle che sono le esigenze non soltanto di ragazzi e ragazze, ma dell'intera collettività. E questo sicuramente è l'aspetto del quale siamo maggiormente soddisfatti e sul quale continueremo a lavorare, perché oggi il digitale è un'opportunità accanto alle altre e deve diventare uno strumento per essere cittadini. Bene, Cato Zella, si è parlato di motivazioni. Ovviamente le motivazioni vengono, come dire, trasmesse anche dal corpo docente. Quanto il corpo docente è motivato nel recepire le nuove tecnologie e nel poi proporle e probabilmente anche cercare di coinvolgere in maniera entusiastica i ragazzi stessi? Sì, rispetto al contesto didattico attuale, il tema generale è che abbiamo una forte frammentazione degli interventi. Quindi quello che accade nelle classi dipende appunto dalla volontà del singolo docente che dedica tempo per formarsi su questi argomenti e fa sì che magari nei contesti invece più deprivati, dove l'azione di Sevi Decidere è più intensa, invece non riescono a realizzarsi azioni didattiche significative sulla competenza digitale. I docenti anche in questo progetto ci hanno restituito la volontà di una formazione, ma soprattutto di una formazione che sia in grado di incrociarsi con le discipline e di incrociarsi con i temi che riguardano la scuola e che riguardano l'educazione civica. Quello che i docenti ci riportano è l'interesse, ma anche la necessità che il digitale entri nella scuola integrandosi con le altre discipline e non presentandosi come un elemento staccato. Lavorare sulle competenze digitali non è portare i ragazzi in un'aula informatica, è anche questo, ma è soltanto un pezzo di un'azione didattica che i docenti e i consigli di classe vogliono costruire e per i quali hanno la necessità di una formazione che sia in grado però appunto di raggiungere effettivamente quelli che sono poi gli obiettivi del docente rispetto all'educazione civica e agli altri argomenti relativi a temi digitali. Sarebbe molto interessante capire se le nuove tecnologie abbraccia in maniera trasversale indistintamente tutte le discipline. Credo di capire di sì, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il digitale è parte, il digitale è ormai intorno a noi in ogni azione quotidiana, anche questa nostra intervista la facciamo nel digitale, quindi c'è un momento di relazione tra me e te che si sta svolgendo filtrato da uno strumento che è digitale. Quindi il punto è che appunto questo digitale come lo inserisco nella mia disciplina di arte? L'arte lavora per esempio sulle immagini, posso utilizzare uno strumento i ragazzi e le ragazze di questo progetto l'hanno fatto per costruire dei meme, delle immagini visive da alto impatto utilizzando anche la scrittura e le immagini lavorando con immagini artistiche. Abbiamo tantissimi esempi fortunatamente non solo da questo progetto ma in tutto il contesto scolastico. Quello che serve ora è unificare gli interventi e cercare di arrivare ad una direzione concreta e di senso che possa essere vicino a tutti i docenti anche coloro che ogni giorno contrastano la povertà educativa e digitale in contesti fortemente deprivati. Unificare gli interventi significa anche fare una programmazione di classe all'interno dei consigli di classe e verificare poi quali sono, ecco, porsi degli obiettivi comuni da raggiungere a livello poi proprio di consiglio di classe. E un'ultima domanda... È già previsto questo in realtà. Sappiamo che è previsto ma sappiamo che i docenti ancora incontrano delle difficoltà. Venire il loro incontro significa rispondere a questa difficoltà con qualcosa che abbracci l'intero consiglio di classe. Quindi dare comunque un impulso a questa indicazione che c'è solo al momento in molte scuole sulla carta attraverso, ecco, iniziative come la vostra sicuramente è ben accetto, ecco, questo mi sembra di capire all'interno delle scuole. Volevo capire un'ultima cosa e poi ci lasciamo. Quali sono gli strumenti più utilizzati a livello tecnologico all'interno di un'aula, non laboratori, un'aula durante la lezione di matematica, di italiano, di scienze? Beh, noi sappiamo che al momento gli strumenti in un'aula sono anche condizionati da quelle che sono le direttive, anche nazionali e ministeriali. In questo momento ancora tantissimo è l'utilizzo di LIM e di strumenti che sembrano appartenere ad un passato tecnologico ma sono ancora molto presenti. In realtà di digitale si può lavorare anche in alcuni casi, in molti casi in maniera analogica. Anche questo può far parte della formazione che i docenti possono ricevere e che noi costruiamo all'interno dei nostri progetti. Quindi ci sono... Anche, ad esempio, utilizzando lo smartphone, il telefono cellulare, può essere questo un mezzo utile? Beh, lo smartphone al momento è più che altro un mezzo purtroppo molto divisivo, quindi sappiamo che nei contesti didattici è stato anche raccomandato di non utilizzarlo, però il punto è che ci sia lo smartphone o che ci sia il tablet o che in una classe non ci sia nulla di tutto questo. Lavorare sulla consapevolezza del digitale basta partire dall'esperienza di ciascuno dei ragazzi e lavorare intorno a queste esperienze. Anche così facciamo didattica digitale e facciamo educazione digitale, non soltanto costruendo artefatti attraverso strumenti, ma anche occupandoci di discutere. Quando discutiamo, ad esempio, dei fatti dell'attualità, occupandoci di come questi vengono veicolati nei contesti digitali che i ragazzi incontrano. Che cosa sta dicendo TikTok delle ultime notizie? Parlarne significa anche parlare di disinformazione e di tantissimo altro. Quindi agganciare anche, veramente concludiamo, l'attenzione dei ragazzi attraverso il loro linguaggio probabilmente anche più comune, più a loro avvezzo, no? Esatto, esatto. Avvicinandoci alla loro quotidianità, anche digitale, considerandola in una, insomma, esperienza globale che ciascuno di noi fa, come tantissime altre competenze. Bene, bene. Ringraziamo Daniele Catozella di Save the Children. Grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi.